a Questi me rendendo mai? Aspettare, io non capisco. Come ti è ricordato la tua pagine? Questa cosa vuoi dire che lo fanno? Quando può essere fiume di la sveglia? Quando può essere fiume di la sveglia? Ka sera! Ciutti me bine ti cuglo ciutti me, da sto di vedere scartina Dai sa parola Quali mi parei? Pa dai mi pareo sta saratila Non mi parei Dai parei me! Sad! Bezi me, bezi me! Bezi me cuglo Bezi me cuglo Baja Ba tu sei doi Di Quali? Di 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 Di